Ciao a tutti ragazze, è raro da un po' che non facevo video, diciamo che è un po' anche colpa mia nel senso che non ho imparato ancora a gestire i tempi, ovviamente lo sapete sto lavorando, in questi giorni non ho lavorato, in questi tre giorni non ho lavorato, però il problema è che questi giorni è successo di tutto, nel senso che c'è stato il compleanno di mia madre, c'è stato l'anniversario dei miei, c'è stato il mio compleanno che oggi infatti volevo farvi vedere come mi sono vestita che tra poco esco e poi c'è stato il primo di novembre che era ieri che praticamente abbiamo sempre almeno una ventina di parenti a casa a pranzo e quindi io mi sono cimentata un po' in cucina, infatti metterò almeno due foto delle pietanze che ho fatto, che ho preparato, ditemi un po' cosa ne pensate, perché se vi piacciono posso tranquillamente fare la ricetta, visto che da un po' che non faccio ricette di cucina, poi ne ho approfittato, ho avuto un po' di tempo, mi sono anche fatta la piastra che era da molto che non la facevo, infatti mi sono resa conto che i capelli sono cresciuti abbastanza e poi soprattutto ho fatto un trucco, questo è un trucco praticamente l'ho già fatto, quindi per chi fosse interessato lo trovate come video dell'anno, mi pare New Year's Makeup, una cosa del genere, praticamente poi vi metterò sicuramente il link, a me piace tantissimo questo trucco, è uno dei miei preferiti, però non per questo metterò solo questo di trucco, nel senso che sicuramente adesso riprenderò a far video, anche perché il mio contratto da Zara scade verso metà novembre, quindi comunque sicuramente dopo avrò anche più tempo, ovviamente cercherò anche un altro lavoro e vedremo un po' com'è, com'è la situazione, comunque non mi voglio dilungare con storie mie perché ovviamente non so se vi interessano o comunque altro, allora invece il video che ho deciso di fare oggi è soprattutto per farvi vedere un outfit in generale da festa, nel senso che oggi è il mio compleanno ho deciso di mettermi un vestitino e poi delle scarpe alte e sopra un capotto che vi farò ovviamente vedere e poi soprattutto per farvi vedere il nuovo mascara della Essence che è praticamente doppio volume, due in uno ed è questo, vi avevo già detto che vi avrei fatto vedere come funzionava, come lo utilizzavo e per questo motivo ho deciso di fare un video appena avevo la possibilità, allora per questo adesso vi faccio vedere come lo utilizzo io questo bellissimo mascara, allora mi preparo e vi faccio lo zoom, per esempio in quest'occhio praticamente questo è il primo passaggio, c'è scritto 1, look 1, prendete il mascara e poi iniziate con, aspettate che vi faccio uno zoom più grande, questi movimenti dal basso verso l'alto, così, e poi dal destra verso sinistra o da sinistra verso destra, come vi viene meglio praticamente lo vedete che in questo modo le ciglia si aprono molto di più, non so se non so se ne rendete conto, ecco fatto, questo è praticamente il primo passaggio, le ripassate quante volte volete per aprire di più le ciglia e adesso passiamo invece al secondo passaggio, secondo look, lo passate subito dopo il primo e vi renderete subito conto che questo, con quest'altro passaggio le ciglia, le vostre ciglia saranno molto più aperte, guardate che belle, eccoci qua, sono molto lunghe già, le mie sono molto lunghe e tra l'altro sono anche cresciute dall'ultimo mio incidente. Ovviamente se avete problemi con il mascara, nel senso che si formano i grumi o altro, perché è molto possibile che ci siano questi incidenti, praticamente vi consiglio di usare uno di quei pennellini per pettinare le ciglia, che adesso io purtroppo non ho, comunque pennellino da pettinare le ciglia, ve lo farò vedere anche e guardate come le pettina bene, guardate il risultato. A me piace molto, poi se non siete soddisfatte potete tranquillamente fare lo stesso passaggio anche dopo una decina di minuti e vedrete bene il risultato. Comunque si vede già che quest'occhio è più aperto, più c'è lo sguardo e adesso vi faccio vedere anche con l'altro, faccio anche l'altro occhio così vedrete il risultato di entrambi. Questo secondo me è uno dei migliori mascara, oltre l'altro Black Mania mascara, lo stesso della Essence, molto bello, quindi ho fatto il primo passaggio e adesso farò il secondo. guardate bene come le apre le ciglia. Secondo me è perfetto. Sembrano addirittura delle ciglia finte da quanto le apre. Allora quindi il risultato praticamente è questo qui, bellissimo secondo me. Quindi adesso vi faccio vedere invece come sono vestita oggi per il mio compleanno e praticamente è solo in me, mi metto un attimo allo specchio e vi faccio vedere. Ecco qui, allora vi avevo già detto comunque che avevo comprato queste scarpe qui, molto alte, adesso ve le faccio vedere bene anche come stanno ai piedi. Allora quindi mi sono vestita con questo vestito, con questa cinturina per segnare la vita, che ho comprato da Piazza Italia a qualcosa come 29 euro, molto carino, con questa parte sopra blu elettrico e poi giù nero ed è a palloncino come vedete, questo qui c'è l'elastico e poi arriva sopra praticamente a metà coscia, molto sopra il ginocchio, dietro è fatto così e dietro anche il lacetto per legare e stringere sempre in vita. Sopra metterò un coprispalle nero e poi sopra un trench, che adesso vi faccio vedere. Allora il coprispalle è questo, vi faccio lo zoom, un semplice coprispalle nero che arriva fino a qui e questo è Baby Angel, pagato mi pare 19 euro da OVS. Quindi praticamente vi faccio rivedere come tutto l'insieme. Ecco qui, il trench è questo, è un trench nero, l'ho praticamente legato in vita, anche questo è Piazza Italia, arriva praticamente all'altezza del vestito, sì, uguale. Quindi oggi uscirò così per il mio compleanno. Grazie, allora, spero che l'outfit vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate già questo vestito perché c'è anche di diversi colori da Piazza Italia, non costa tanto e secondo me per queste occasioni va benissimo. Quindi fatemi sapere e un bacione a tutte. Grazie.